Ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con Spazio Notizia. L'uso degli smartphone è purtroppo una delle principali cause di incidenti stradali, incidenti stradali che spesso portano anche a dei dolorosi decessi. Sono davvero tanti i casi in Italia e sono tanti gli italiani che hanno anche affermato di usare lo smartphone e di realizzare dei video mentre sono alla guida. La distrazione alla guida è la principale causa degli incidenti stradali e il colpevole in gran parte dei casi è lo smartphone. Il 10% degli italiani, mentre è al volante, gira un video con il cellulare e tra questi il 3,1% ha ammesso di averlo fatto in prima persona alla guida del proprio veicolo, mentre il 6,9% ha dichiarato di essere stato a bordo di un mezzo mentre il conducente filmava. È il dato allarmante che emerge dalla terza edizione della ricerca sugli stili di guida degli automobilisti, commissionata da ANAS e condotta da Research Centro Statistica aziendale, con interviste su un campione di 4.000 persone e con oltre 5.000 osservazioni dirette su strada, presentata al convegno Sicurezza Stradale Obiettivo Zero Vittime, organizzato dalla stessa ANAS con PRC, Associazione Mondiale della Strada, e il MIT in occasione della giornata mondiale in ricordo delle vittime della strada. Secondo i dati Istat, nel 2022 sono stati 3.159 i morti in incidenti stradali in Italia, con un aumento del 9,9% rispetto all'anno precedente. Del 3,1%, chi ha detto di avere utilizzato il cellulare mentre guidava per fare riprese video, fanno parte in ugual misura sia uomini che donne, in una fascia d'età compresa tra i 24 e i 44 anni, con punte più elevate tra i 25 e i 34 anni. Lo stesso vale per il 6,9% di utenti che ha sostenuto di essere stato a bordo di un veicolo mentre il guidatore filmava. La percentuale più elevata riguarda le donne tra i 25 e i 34 anni. Tra gli altri dati della ricerca spicca la maglia nera per il distaccamento minimo non rispettato, su un totale di oltre 102.000 veicoli al giorno osservati lungo la rete ANAS, nel 38,5% dei casi la distanza di sicurezza non è stata rispettata. E ancora, tra i comportamenti scorretti, c'è il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza da parte del conducente, 10,6% e soprattutto dei passeggeri posteriori, 72,6%, ma anche il mancato uso dei seggiolini per i bambini, 46,8%. Cronaca da Palermo in due hanno rubato una motocicletta di grossa cilindrata. Un 26enne è stato arrestato dai carabinieri mentre un minorenne denunciato. Ma per tutti i dettagli vediamo il servizio. I carabinieri della stazione Palermo-Mezzo-Monreale hanno tratto in arresto un palermitano, un 26enne, e deferito in stato di libertà un 17enne per furto aggravato. I militari dell'arma, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno colto in flagrante i due giovani che avevano appena rubato una motocicletta di grossa cilindrata regolarmente parcheggiata in piazza Cappuccini. L'arrestato, su disposizione dell'autorità giudiziaria, è stato ristretto ai domiciliari in attesa del processo che sarà celebrato con il rito direttissimo. Per il più giovane, invece, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni procederà a piede libero. Il motociclo è stato restituito al proprietario. L'arresto del 26enne è stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo. Da Palermo ci spostiamo virtualmente a Messina, dove un giovane è stato invece bloccato dai carabinieri e trovato in possesso di sostanza stupefacente e è stato ovviamente arrestato per detenzione di droga. Ai fini di spaccio. Vediamo il servizio. I carabinieri della compagnia di Messina Sud hanno arrestato, in flagranza di reato, un 29enne del posto già noto alle forze dell'ordine, presunto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. Durante un servizio antidroga predisposto in località Santa Lucia Sopracontesse di Messina, i carabinieri hanno intimato l'alta un ciclomotore condotto da un giovane, il quale, anziché fermarsi, nel verosimile tentativo di scappare, ha proseguito la corsa andando a urtare contro l'autovettura dei militari dell'arma, ferma al lato della strada, senza conseguenze. Subito bloccato dai carabinieri, il 29enne è stato identificato e sottoposto a un controllo di polizia, con conseguente perquisizione personale e veicolare, all'esito della quale è stato trovato con indosso oltre 6 grammi di cocaina e più di 5 grammi di crack. Il giovane è stato pertanto arrestato e condotto in caserma, dove, a seguito di ulteriori verifiche, è stato anche denunciato per guida senza patente con recidiva nel triennio. I militari hanno infatti accertato la recidiva del giovane che ancora una volta era stato trovato a guidare senza la patente da lui mai conseguita e che nella circostanza si trovava alla guida di un ciclomotore che i carabinieri hanno sequestrato in quanto sprovvisto di assicurazione. La droga è stata sequestrata e inviata ai RIS per l'analisi di laboratorio, mentre l'arrestato, su disposizione dell'autorità giudiziaria, è stato ristretto in regime di domiciliari nella sua abitazione in attesa dell'udienza di convalida. Da Messina a Castiglione di Sicilia, dove i carabinieri hanno invece denunciato due giovani. Uno di loro, nella propria abitazione, deteneva spade, sciabole, pugnali, persino una balestra e altro materiale, ovviamente illecito. I carabinieri di Castiglione di Sicilia, nel corso di un servizio perlustrativo nel piccolo centro etneo, insospettiti dall'atteggiamento di un ragazzo di 19 anni, già noto alle forze di polizia, che alla loro vista ha tentato di nascondere il viso alzando il cappuccio della felpa, hanno deciso di operare una approfondita perquisizione a suo carico. I militari dell'arma si sono così recati nell'abitazione dove il ragazzo vive con la madre e la sorella, una casa di quattro piani, e hanno trovato, nascosti in un vano contenitore del divano, una balestra in legno e metallo lunga un metro, una sciabola con lama di 89 centimetri e un metal detector. Invece, all'interno di un barattolo di vetro, nascosto nel cassetto del soggiorno, sono state trovate ben 51 monete di presumibile interesse storico-archeologico. Nella camera da letto del ragazzo, inoltre, all'interno del cassetto del comodino, i carabinieri hanno trovato due munizioni per pistola, un pugnale e tre spade. Proseguendo nella ricerca, i militari hanno recuperato anche due ricetrasmittenti portatili e una pistola scacciacani. Ciò che propri carabinieri non pensavano di trovare, ma che hanno recuperato all'interno di una busta di plastica, occultata sulla parte alta di un armadio, sono state un paio di manette metalliche matricolate e diversi gradi in plastica e in metallo, appartenenti al corpo di polizia penitenziaria. Un freggio in metallo riportava anche la dicitura comandante di reparto. Poiché negli ultimi giorni le forze dell'ordine avevano visto in giro per il paese il giovane, che si accompagnava a un 22enne, hanno avuto il sospetto che anche a casa dell'altro ragazzo potesse essere nascosto materiale illecito. Pertanto i militari dell'arma sono andati a perlustrare anche l'appartamento del 22enne, trovando due cartucci a pallini calibro 12 che il giovane non aveva motivo di tenere in casa. I due sono stati denunciati a piede libero alla procura della Repubblica di Catania per detenzione abusiva di armi, mentre al 19enne sono stati contestati anche il possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli, oltre che il possesso ingiustificato di valori. Cambiamo argomento, parliamo adesso dei controlli effettuati dalla Polizia Ferroviaria in Sicilia nell'ambito della giornata denominata stazioni sicure, ovviamente un'operazione di controllo nelle principali stazioni ferroviarie della Sicilia. Non sono mancate ovviamente le sanzioni. Vediamo perché nel nostro servizio. 1104 persone controllate, 135 bagagli spezionati, 28 sanzioni elevate, 99 agenti impegnati in 58 scali ferroviari siciliani. Sono questi risultati conseguiti dal compartimento Polizia Ferroviaria per la Sicilia durante la tredicesima giornata dell'anno dedicata a stazioni sicure, organizzata a livello nazionale per incrementare il livello di sicurezza in ambito ferroviario e contrastare le attività illecite. Gli agenti della Polizia Ferroviaria, sotto il coordinamento della centrale operativa compartimentale della Polfer della Sicilia, hanno effettuato controlli nei maggiori scali ferroviari della regione, sui treni e in un deposito bagagli, utilizzando anche metal detector e smartphone di ultimissima generazione, che hanno consentito di velocizzare le verifiche. A Palermo i controlli straordinari della Polfer sono stati supportati anche dal personale dell'esercito italiano, da unità cinofile antidroga ed anti-esplosivo della locale Questura, nonché da pattuglie del reparto Prevenzione Crimine e del Commissariato o Retostazione, che hanno effettuato verifiche nel tessuto urbano adiacente alla stazione centrale, comprese le strutture ricettive insistenti e le aree di bivacco e di posizionamento dei commercianti ambulanti abusivi. In particolare, solo a Palermo, sono stati verificati 115 bagagli a seguito dei passeggeri dei treni e degli autobus in arrivo e in partenza, e altri 20 nel deposito bagagli della stazione, controllate inoltre 385 persone ed elevate tre sanzioni per violazioni al codice della strada. A Catania, invece, gli agenti della Polfer hanno effettuato controlli anche con l'ausilio di unità cinofile della Questura e personale della locale Polizia Municipale. Al vaglio dei poliziotti, per il contrasto del crimine diffuso, le attività commerciali orbitanti nell'area ferroviaria e il piazzale antistante alla stazione centrale, dove sono stati controllati 10 veicoli ed elevate 21 sanzioni per violazioni al codice della strada, per un ammontare di circa 11 mila euro, con due sequestri e tre fermi amministrativi. A un uomo di 75 anni, infine, è stata elevata una sanzione ai sensi del regolamento di Polizia Ferroviaria, perché sorpreso ad attraversare i binari. Anche ad Acireale è stata celebrata la giornata mondiale per i diritti dell'infanzia e degli adolescenti. Nei giorni scorsi Unicef Italia ha celebrato la giornata mondiale dell'infanzia e dell'adolescenza, quest'anno omaggiando il diritto alla pace. Ha anche aderito la Caritas Diocesana con il progetto Nessuno Escluso che ha stipulato con l'istituto comprensivo Giovanni XXIII di Acireale un'alleanza per ricordare i tanti bambini che nel mondo vivono contesti di guerra ed emergenza. Famiglia, scuola, ascolto reciproco e gioco. Anche i bambini e gli adolescenti sono titolari di diritti civili, sociali, politici, culturali ed economici che vanno promossi e tutelati da tutti. In questo stesso giorno si è celebrato il 34esimo anniversario dell'approvazione della Carta dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. È stato forte, quindi, il bisogno di riportare al centro del dibattito i diritti dei minori in una giornata a loro dedicata, ospitata dall'istituto comprensivo Giovanni XXIII di Acireale. Collaboriamo nell'interesse della crescita e della formazione degli stessi ragazzi, ragazzi che frequentano la scuola e che frequentano anche l'oratorio. Insieme per qualche mese hanno preparato un lavoro riguardo ai diritti dei bambini e quindi ci sono stessi ragazzi della nostra scuola che sono mentor dei compagni di classe, stanno presentando insieme agli operatori anche quelli che sono i diversi diritti dei bambini, ma lo stanno facendo anche con azioni pratiche perché oltre al diritto all'istruzione che vivono tutti i giorni e che hanno vissuto anche nel progetto Nessun Escluso perché hanno fatto anche dei lavori di approfondimento di alcune discipline, oggi lo vivono anche con i giochi perché il gioco è un momento educativo, formativo anche a livello disciplinare e quindi i ragazzi si stanno facendo da tramite ed è la comunicazione più efficace. I ragazzi del progetto Nessun Escluso si sono confrontati con il delicato tema dei diritti coordinati dagli animatori dell'oratorio di AC Platani, dalla dottoressa Emilia Crimaldi, responsabile del programma formativo supportato da Massimo Borzi, operatore Caritas. Il progetto è sostenuto dall'ufficio Caritas di Ocesana con i fondi dell'otto per mille allo scopo di abbattere l'emarginazione sociale e la povertà minorile educativa. Il progetto si prefigge di fronteggiare quella che è l'emergenza educativa e nell'emergenza educativa oggi vogliamo celebrare quello che è il diritto all'infanzia e allora abbiamo avuto sui 40 diritti che la carta dell'ONU identifica dell'infanzia ne abbiamo accentuate alcuni. Tra questo oggi c'è anche quello del gioco, il gioco non visto solo come passatempo ma come strumento per avviare processi ludico-educativi e quindi con il rispetto di chi gioca con te, quindi il rispetto dell'altro, il rispetto del tuo turno nel gioco e quindi del tempo, dello spazio, degli strumenti. Ma non solo, come diceva Baden Powell, fondatore dello scautismo internazionale, tutto col gioco, nulla per gioco perché anche il gioco può diventare strumento pedagogico. Ci fermiamo qui ma ci ritroviamo più tardi per una nuova edizione di Spazio Notizia.